Vigili del fuoco assieme a polizia locale nord-est Vicentino intervenuti ieri attorno alle 14 a Tiene in via Sauro su segnalazione dei nipoti che alle loro chiamate al cellulare non corrispondevano le risposte della nonna. L'anziana, ultraottantenne, non apriva nemmeno la porta che risultava chiusa dall'interno, il che impediva l'apertura con le copie delle chiavi. Una volta aperta la porta blindata dai pompieri, la donna è stata soccorsa dai sanitari che l'hanno trovata a terra in cucina.